Gela ha abbracciato la sua patrona. Una folla immensa già a partire dalle 18 e ieri ha atteso in Piazza Umberto I l'uscita dell'amato simulacro della Madonna dell'Alemanna. Un quadro tanto caro e gelesi da richiamare nella città natale in questa data importante molti isolani emigrati per motivi di lavoro. È sempre emozionante vivere il momento in cui si spalanca il portone principale della chiesa madre e si intravede già il simulacro che avanza tra due ali di folla. Molte mamme affidano allo sguardo buono della Madonna e propri piccoli ma ci sono anche i nonni con gli occhi lucidi di commozione. Ogni gelese arriva con il suo carico di dolore e di speranza. Ognuno chiede una grazia personale, familiare o per le sorti dell'intera comunità cittadina. Ci sono tutti, le autorità religiose, civili e militari, la banda, i volontari della protezione civile e la stampa. Tutti desiderano abbracciare la patrona e stringersi in un momento di devozione e di raccoglimento per vivere una delle tradizioni più antiche di cui si abbia memoria. Il rituale è intenso e scandito dal tempo che in questi momenti sembra fermarsi, cristallizzate in attimi che restano impressi nella memoria storica della città di Gela. L'8 settembre è la festa di tutti i gelesi, anche di chi è vicino soltanto col pensiero, distante chissà quanti chilometri forse, ma unita al grande battito di un cuore che palpita di gioia e devozione per la sua patrona, da ogni angolo del mondo.